Musica Ben trovati tra poco l'appuntamento con l'informazione droga nei guai un quarantenne nisseno sequestrati oltre 10 grammi di eroina. Il saluto del questore Filippo Nicastro, il bilancio di 4 anni a Caltanissetta, obbligo violato, scatta una denuncia a Caltanissetta. A tra poco. Ben trovati, nuovo appuntamento con l'informazione droga nei guai un quarantenne nisseno sequestrati oltre 10 grammi di eroina. Nell'ambito di servizi di prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti, attuati anche a seguito di numerose segnalazioni relative al ritrovamento di siringhe da insulina abbandonate per strada, i poliziotti della squadra mobile nei giorni scorsi attenzionavano numerosi tossicodipendenti e noti spacciatori del capoluogo. Di uno di questi, in particolare per il suo atteggiamento sospetto e guardingo, venivano monitorati i movimenti. Nel pomeriggio di eri, i poliziotti decidevano di entrare in azione effettuando una perquisizione domiciliare. Gli agenti si presentavano quindi nell'abitazione dello stesso in via Retusa per eseguire una perquisizione, trovati complessivamente 10,7 grammi di eroina. L'uomo è stato segnalato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La droga e un bilancino di precisione sono stati sottoposti a sequestro. Stamani il saluto del questore Filippo Nicastro, il bilancio di quattro anni vissuti nel capoluogo Nisseno. Nel corso di una conferenza stampa, il questore Filippo Nicastro ha salutato i giornalisti. Dopo una lunga carriera nella Polizia di Stato, andrà in pensione tra pochi giorni. Stamani il bilancio di un'esperienza durata quattro anni a Caltanissetta. Il bilancio credo che sia positivo, ma in ogni caso lo dovete trattare voi. Non aspetta a me trattare un bilancio dell'attività svolta dalla Polizia di Stato durante questi quattro anni e quattro mesi di mia gestione. Caltanissetta è notevolmente migliorata, sia rispetto a quattro anni e quattro mesi fa quando sono arrivato, sia rispetto alla mia prima esperienza in Estena nel 90 al 92 quando dirigevo la sezione DIA di Caltanissetta. È migliorata in tutti i sensi, nella qualità di vita, nei rapporti fra le istituzioni, nei rapporti fra il cittadino e le istituzioni. Nel senso che il cittadino in questi ultimi tempi si è molto di più, è molto ancora più avvicinato sicuramente alle forze di Polizia e alle istituzioni statali. Qual è il ricordo più bello o la pagina che vuole dimenticare di queste esperienze? No, la pagina che voglio dimenticare nessuno. L'esperienza più bella è stato questo a Caltanissetta. I servizi di ordine pubblico si sono rivelati complessi? Ne abbiamo avuto tanti in questi quattro anni di emergenze di ordine pubblico. Mi riferisco alla Tentopoli con i 500 tunesini, mi riferisco ai blocchi stradali nel periodo dei Forconi e mi riferisco ancora di più alle varie manifestazioni anti-MUOS che ci hanno visti impegnati. E lì è risaltata notevolmente l'abilità e l'operatività dei miei collaboratori e dei miei funzionari e di tutto il personale che ho operato perché mai si è verificato che ci sono stati incidenti tali da creare feriti. Quale messaggio lascia a chi verrà dopo di lei? No, chi verrà dopo di me saprà fare il questore sicuramente meglio di me. Il messaggio è che Caltanissetta va anche vissuta. Io, sebbene non sia stato mai un frequentatore di salotti, però ho passato più domeniche e sabati qui a Caltanissetta che non a casa mia. Questo anche per vivere nei momenti di relax la città. Ricettazione e guida senza patente, due segnalati controlli della Polizia in via Barone Lanzirotti. Nel pomeriggio di ieri Poliziotti e della Sessione Volanti hanno segnalato due ventenni nisseni con precedenti per reati contro il patrimonio e la persona. Transitando in via Barone Lanzirotti, gli agenti notavano i giovani a bordo di due ciclomotori con targhe vecchio modello non più idone alla circolazione. Uno dei due dichiarava ai poliziotti che i ciclomotori erano di sua proprietà e che in quel momento stava facendo provare un mezzo ad un conoscente per una probabile compravendita. In relazione alle targhe vecchio tipo aggiungeva che non erano sue e che gli erano state prestate da un amico per provare i ciclomotori. Al momento del controllo nessuno dei due giovani era in possesso di patente di guida, poiché mai conseguita. Inoltre, uno dei mezzi da un controllo al CED risultava rubato nel 2011 in provincia di Ragusa. I due venivano condotti in questura e segnalati in stato di libertà alla competente autorità giudiziaria, il proprietario dei ciclomotori per guida senza patente e ricettazione e l'acquirente per guida senza patente. Caltanissetta, la prima commissione consigliare, sta elaborando un regolamento comunale per la sosta a pagamento. Lo strumento sarà sottoposto al più presto all'attenzione del Consiglio Comunale. Adesso parliamo di cioccolato, scudo per il cuore. Cioccolato, scudo per il cuore grazie alla capacità del cacao di tenere a bada il colesterolo, piacere per la gola e tocca sana per la salute, la più amata delle leccorni aiuterebbe a prevenire le malattie cardiache. Inoltre, a sorpresa, darebbe una mano a ridurre i livelli di grasso nel sangue anche in chi convive con il diabete, almeno secondo i ricercatori della Hall University in Gran Bretagna, che ne hanno testato le proprietà benefiche. Gli scienziati hanno diviso 12 volontari con il diabete di tipo 2 in due gruppi, invitando ciascuno a mangiare una barretta di cioccolato. A un gruppo è stato dato del normale cioccolato, all'altro l'alimento arricchito di polifenoli. La barretta potenziata ha avuto un effetto benefico sui pazienti, migliorandone i livelli di colesterolo. Una notizia che farà ben sperare i diabetici, mal disposti a rinunciare al cioccolato, che sono sicuramente moltissimi. Vi lascio alla rubrica Salute e benessere, si parlerà di alimentazione. L'informazione continua su tcsnews.tv. È possibile scaricare da tutti i dispositivi mobili l'app per iPad, iPhone e Android. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento. Grazie.